Siamo qui con mister Romondini dopo il successo contro il Nereto per 2 a 1. Come giudica questa prova mister? Arrivata anche in inferiorità numerica, avete fatto due gol in 11 contro 10. La giudico in modo estremamente positivo perché mi è piaciuta la reazione della squadra alle difficoltà. Normalmente quando siamo rimasti in inferiorità numerica magari ci si voleva aspettare anche un calo. Invece abbiamo continuato a giocare, a macinare in mezzo al campo, a correre, a correre più degli altri. Ci abbiamo sempre creduto e come è ben detto siamo andati in vantaggio e abbiamo fatto anche il secondo gol in 10. Credo che c'è da sottolineare soltanto la prova dei ragazzi, lo spirito di sacrificio, la sofferenza che ognuno di loro ha messo all'interno del campo, qualcuno anche giocando gran parte della partita in un ruolo che non è il suo, tipo Rocchi che si è adattato per più di 45 minuti a fare il terzino. E dopo anche tutti quelli che sono entrati nelle difficoltà perché rimanere in 10 così presto e poi dopo comunque il secondo tempo prendere subito col primo minuto credo che per qualsiasi altra squadra sia difficile. Però devo fare veramente un applauso ai miei ragazzi perché oggi secondo me sono stati esemplari sotto il profilo del sacrificio, della corsa, della voglia, della fame e proprio per conquistare questa vittoria con le unghie e con i denti. Mister, il Trastevere ha vinto contro il Portodascoli e si è creata questa piccola spaccatura in classifica con Portodascoli a 17 e poi ci siete voi a 22, Re Canatese e Trastevere appunto. Pensa che queste tre squadre abbiano già creato un piccolo solco in vista del proseguo del campionato? Beh, il solco l'hai detto te, si è creato però credo che sia ancora presto, sono dieci partite. Perché naturalmente è un campionato difficile dove secondo me non ci sono partite facili da affrontare e oggi noi abbiamo avuto l'esempio lampante. Abbiamo giocato contro una buona squadra che è venuta a fare la partita e faccio i complimenti perché hanno lottato fino all'ultimo minuto, ci hanno messo qualche volta in difficoltà e ripeto, poi c'è stata una prestazione importante e globale da parte proprio della squadra. Questa squadra che ha dimostrato anche oggi, anche se non ce n'era bisogno di avere un cuore e di avere un'anima, di andare a prendere quello che vuole, quando vuole, con sofferenza e sacrificio anche se a volte la prestazione può anche essere brutta, tra virgolette. Alla prossima avete il Castello Vomano che oggi ha pareggiato per 3-3 contro il Notaresco. Che partita si aspetta la prossima settimana in trasferta? Beh, una partita tosta perché loro hanno dei giocatori importanti singolarmente, sono una buona squadra come collettivo e comunque in queste dieci partite hanno dimostrato di giocarselo anche loro con tutti, insomma. Oggi un pareggio con il Notaresco mi sembra che stavano anche vincendo, quindi lo dico sempre, secondo me questo è un girone veramente bello da giocare, importante perché ogni squadra che si affronta, ogni partita della domenica è veramente una partita difficile da affrontare, da giocare e poi da vincere.